ehi la ciurma io sono mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di never alone ritorniamo all'avventura con nuna e la nostra cara volpina sperando di non avere troppi guai questa volta ho sistemato il problema della risoluzione adesso continua a essere in 720p ma non è più scalato come la scorsa volta ah già eravamo rimasti con una volpina che era morta la scorsa volta ah già eravamo rimasti con un altro video un bimbo è tipo lo spirito della volpina che se ne va via oh no resta con noi ma quindi possiamo usare oh si possiamo usare anche lo spiritello della volpina no allora di solito si va a destra quindi andrò a sinistra e infatti non c'è niente lol ah col spazio la volpe vola più velocemente si ma uh c'è volpe interagire con gli spiriti shifter e Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 non di farla cadere porca la miseria ladra allora scusami se ti sono passato in testa ma devo passare di qua lol allora no no allora saliamo di qua penso che ok ci andiamo a calibrare bene il momento se no la volpina adesso non dovrebbe più poter morire credo perché è già morta ops no ok ok allora adesso sappiamo che no ho saltato troppo presto c'è già tre morti qua abbiamo fatto ok uh al pelo questo è devono uno spiritello mi sa eh ah no è qua vieni qua spiritello vieni via vieni da ce lo fai? si ottimo volpina muovilo su qua qua no più in qua please ah ok no c'è il vento ottimo yeah ok ma c'è da no ottimo e come ci salgo però lassù? ah no ok c'è questa pallina di spettro da muovere vieni qua shifta 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 ok nooo non ha ok volpino muovi questo spettro qua grazie ottimo grazie mille spettrino ci spacca ottimo no non mi volare giù allora c'è qualche si c'è uno spettrino qua sopra forse ah ma è ghiacciato ehi nooo mi far cadere giù non è sennò siamo dei guai ottimo ecco lo spiritello vieni qua vieni 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 non riesci a venire un po' più in giù no io riesco a salire là no nooo ah sono di qua no dove dove sono ah no ok allora lo spiritello ma guarda che ah e c'è un altro nooo non aggrappare ah no perchè non avevo selezionato nulla ops 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 pronti via ok ora non volare giù muovi lo spiritello un po' più in giù oh no no non vuole venire ehh non bugarti così però no no non ci arrivo no forse ho bisogno forse ho bisogno di prendere l'altro spiritello prima ehi wei 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 nooo allora eeeeeeeee volpino vieni 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 che i tizio nooo allora venite in qua tu Nuna sali sopra sto tizio e poi sali sopra quell'altro tizio ok aggrappati allora tu vieni qua eh però no cosa ci serve qua? niente ah ok ottimo allora ci sono degli spiritelli da muovere eh eccolo qua per fare il volo della morte ok dove va sto spiritello? dove è andato? ah ce n'è uno qua che si muove come? riesce a venire più in su ottimo Nuna ok no allora mi sa che dobbiamo muoverlo di qua ok Nuna a lei volpino ok Nuna wow che collaborazione dove sono andati sti spiritelli ops ha battuto la testa eh ma posso muoverlo questo? ma non cresce poi più di tanto eh eh ma non salta fin laggiù dove cavolo dove è? da quello sotto ma quello sotto non sale allora vai muovi lo spiritello no non quello spiritello questo spiritello non ho detto a te ho detto a lui allora vieni ok Nuna ti da una bella frombolata sulla testa ok ottimo allora tu muovi questo spiritello qua ok Nuna sali sull'ascensore volpino muovi l'ascensore ok Nuna rompi st'affare volpino prendi sto tizio Nuna rompi sto tizio e noi andiamo giù sotto pian pianino ok vieni su ok Nuna scendi su sto coso ok mo vediamo dove dobbiamo andare con sto fare eh deve scendere ok si deve scendere ci sono degli spiritelli qua molto confortevoli no non questo ecco questo qua dei shaler bravo volpino no al pelo mi sa che devo romper questo ma per poi volare dove di grazie veramente se c'è qualcosa da fare qua no dubito ah ecco c'è uno spiritello qua vieni 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 ok Nuna a lei ok cosa è successo ah ok c'è uno spiritellino qua spiritellino qua vieni no vieni tutto detto di venire tutto detto di venire mi sa che non la devi saltarci su col vento ah muovi sto spiritello no lui l'altro ecco questo qui sta andando spiritello non fare scherzi spiritello ma porca la miseria spiritello vieni lo spiritello non viene sti spiritelli che spariscono porca la miseria allora vediamo se riesco a saltare di là più che altro ma è necessario no secondo me no secondo me è l'altro indietro e non mi conviene allora perché mi ricordo che c'era una strada bloccata così prima quindi mi sa che devo proprio andare in questa direzione prendiamo lo spirite ma forse dovevo semplicemente saltare quando c'era il vento ah vieni qua Nuna a lei ottimo mi guidi lo spiritello qui grazie oh ah volpino ora non allontanarti dallo spiritello ottimo yes anche questo livello è andato io direi che per appunto non durare troppo nei vari videi eccetera eccetera e fare tagli eccetera eccetera la interroppiamo qua noi ci vediamo nel prossimo episodio di Never Alone io vi invito a lasciare un mi piace un commento qui sotto iscrivetevi sempre per caso non l'aveste già fatto io vi saluto un grande braccio a tutti buona giornata e buone feste ciao 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 ciao